Siamo ospiti del Cersaie che è sicuramente la vetrina più luminosa di questo settore, la vetrina che lo illumina anche a livello internazionale. Chi fa il giornalista a Bologna è nato al Cersaie, è nato nelle fiere, il motor show, il future show che c'era allora, oggi purtroppo non c'è più il Cersaie, il Cersaie resiste, è arrivato alla 33esima edizione e oggi è davvero la rassegna di punta di Bologna Fieri, lo dicono i numeri, un terzo degli espositori arrivano dall'estero, quindi è giusto che chi fa informazione, chi fa questo mestiere nella nostra regione approfondisca la conoscenza di questa realtà perché sicuramente è un valore aggiunto che ci consente poi di raccontare meglio la società che ci circonda, le dinamiche in questo caso economiche imprenditoriali, quindi un momento di approfondimento davvero importante e prezioso per tutti gli operatori della comunicazione.